all terreno uno speciale equipaggiamento tecnico per rendere classe e station wagon adatta a destreggiarsi anche nel fuoristrada nel design troviamo griglie protettive protezioni sotto scocca ampi passaruota come nei suv mercedes benz e protezioni anche nei sottoporta non mancano cerchi da 19 pollici e sospensioni ad aria air body control adattive su strada e con possibilità di innalzare di fino a 20 mm rispetto l'assetto normale l'intera vettura gruppi ottici con led high performance e baglianti adattivi a livello tecnico è un motore sei cilindri gasolio da 330 cavalli quattro ruote motrici con cambio automatico a nove rapporti la spaziosità di classe e la ritroviamo nel bagagliaio da 640 litri con possibilità di abbattere singolarmente i sedili posteriori per avere fino a 1820 litri di spazio totale nel posteriore interni rivestiti in ecopelle marrone con tessuto tecnico regolazioni elettriche dell'inclinazione dei sedili supporto lombare riscaldamento dei sedili non mancano inserti in alluminio con console centrale in frassino a porro aperto ancora più piacevole la guida di questa all terreno con il tetto panorama apribile elettricamente concentrandosi sulla telematica di bordo troviamo il sistema mvx con doppio display digitale e controlli touch più assistente vocale e merceres di qualcosa possiamo fare a meno del nostro smartphone che mettiamo a ricaricare nel vano per la ricarica wireless grazie alla trazione integrale quattromatic dei programmi di guida specifici offroad e offroad plus e la funzione downhill speed regulation classe e oltre n migliora la manovrabilità sia nei fondi sabbiosi sia nella guida in fuoristrada in presenza di forti pendenze venite a scoprirla in concessionaria grazie a tutti